Un altro posto dove non potete proprio non venire, a Como, è sicuramente la piazza in cui si trova il Duomo e questo sarebbe il Duomo. Come in ogni città italiana non manca mai un fastoso Duomo, siamo in clima di elezioni regionali e purtroppo hanno rovinato la piazza con un po' di stand politici. Comunque questa è sicuramente una piazza tra le più vivaci di tutta la città, è domenica pomeriggio, sono le 16.53, alcuni negozi sono anche aperti, ovviamente anche i bar, i ristoranti e tutto il resto. Vi suggerisco di visitare il Duomo come farò io tra qualche minuto.